25esimo giorno Ho deciso che il daily vlog di oggi lo farò all'interno della cittadella di Hue dove mi trovo in questo esatto momento Stamattina mi sono svegliato alle 7 sono partito con il pullman alle 8 da Dong Van e sono arrivato circa mezzogiorno a Hue sono andato subito a scaricare gli zaini in ostello il tempo è di rinfrescarmi un attimo e di capire che questa è realmente la prima città dove sto soffrendo umidità e caldo e di fatti dove c'è il sole nel frattempo il telefono mi ha dato il risparmio energetico perché è sotto il 15% quindi ora mi trovo mezzo pezzato sotto il sole mi sono dovuto comprare il cappello nel frattempo ne ho anche comprati altri per il semplice fatto che mi le ha tirati dietro e vabbè li ho comprati ho comprato le cuffiette nuove perché quelle vecchie si sono rotte quindi quello che farò adesso sarà andare in ostello farmi di nuovo un'altra doccia cambiarmi lasciare un po' di robe da lavare in ostello in modo che per domani in sera siano pronte e di imparare che d'ora in poi dovrò uscire con la crema solare e gli occhiali da sole nello zaino perché il sole inizia a sentirsi visto che sto andando verso sud e le temperature si alzeranno oltre i 30 gradi direi che anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti